Ciao a tutti ragazzi, qui devo bersermi a noi e oggi siamo qui sullo speciale di Pasqua Buona Pasqua a tutti seguitori di questo canale seguaci a parte scherzi ho fatto questo video come quella? ho fatto questo video perchè è un diario di sopravvivenza ok cazzate a parte ho fatto questo video perchè per prima cosa per augurarvi buona Pasqua e per seconda cosa per mostrarvi le cose che ho trovato dentro le uova di Pasqua allora, prima cosa che ho trovato nelle uova di Pasqua è questo che io ho comprato le uova Nerf cioè l'uovo della Nerf e l'uovo della Lindor e dentro all'uovo della Nerf ho trovato questo che praticamente va attaccata a questa che è una pistola da polso che questo te lo mette al braccio e dopo allora questo andrebbe così e questa tu ce l'hai sul polso così poi quando la carichi stacchi da questo carichi metti il proiettile e poi e vai ecco questo è la mia cosa preferita tipo c'è tipo così proverò a fare una cosa la faccio ragazzi ce la faccio nooo ok ragazzi basta dopo questo basta comunque poi dopo questo nell'uovo Lindor ho trovato il braccialetto un braccialetto con una catenina della Lindor e niente ragazzi questo era il video corto proprio cortissimo e adesso in questo video andremo a fare un assalto a mio fratello con questo si infatti con questo andiamo non me la metto sul polso dopo il tempo pronti ragazzi andiamo carichiamo andiamo si ragazzi sto facendo i video con il telefono aspettate ragazzi che vi metto la telecamera dalla vostra parte vai da battlefeed dai ho sentito apri ah no tenda chiusa la finestra è chiusa la serranda è chiusa assalto da un'altra parte si ragazzi ho chiuso fuori c'è guardatelo faccia da cavolo oh dai no no Gio Giorgio apri madonna quelle che mi guardano fra un po' cioè fra un po' quelli si affaccia guarda devi morire apri raga il video si conclude qua finchè lui non mi farà entrare dopo ci rivedremo ma questo video si conclude qua e andate sul sul suo canale e fate gli haters perché per colpa sua questo video viene corto per colpa sua quindi criticatelo ciao raga grazie a tutti i nostri grazie a tutti i nostri